Il Paradisi delle Signore 8 puntata 19 aprile 2024, Barbieri e la Contessa in ansia. Durante la cena, Marcello e Adelaide ricevono informazioni preoccupanti sul caso Offer, sconosciuto. L'orrore di Marcello e Adelaide nella puntata del Paradisi delle Donne, in onda venerdì 19 aprile su Rai 1. Nel trailer vediamo che la cena della Contessa con Barbieri è rovinata da notizie allarmanti sull'affare Offer. Quindi Umberto ha vinto? Intanto Matteo resta in carcere, ma Maria riesce a fargli visita. Ha bisogno di parlargli. Dopo l'arrivo inaspettato di Tulio alla mensa, Elvira ha la possibilità di realizzare come sarebbe la sua vita se restasse con lui. Lì si ribella alle continue umiliazioni, ma finisce per litigare con Salvo, che vuole solo aiutarla. Cena finita malissimo Marcello stava tornando dalla Germania quando venne a sapere dell'arresto di Matteo. Non sa cosa si nasconde dietro la sua prigionia o l'affare troppo allettante di Offer. Ha investito molti soldi e Adelaide lo ha sostenuto. Nessuno dei due sa che si tratta di un inganno ordito da Umberto, bruciando di vendetta. Nel trailer del Paradisi delle Signore si vede Marcello e Adelaide intenti ad una cena spiacevole. Rovinata dalla notizia dell'affare Offer. Non sanno come risolvere la situazione, quindi la paura li consuma. Coraggio di ribellarsi Elvira è stanca di essere costantemente osservata. Decide di partecipare alla serata canora e di dare una mano al salvo della mensa. Sapendo benissimo che Tullio non sarà d'accordo. Apparve all'improvviso e scoppiò il caos. Ma questa volta Elvira si ribella e decide di raccontare al fidanzato i suoi veri sentimenti. Salvatore, che non la lascia sola, la sostiene. Via, anche Venere finisce per litigare. Intanto Maria chiede l'aiuto di Silvana per parlare con Matteo che è in carcere per capire cosa si è successo. Intanto Irene e Alfredo cominciano a fare progetti per il futuro. E d'altra parte vedremo come Vittorio sarà determinato a riprendersi Matilde. Conti ha un'idea e chiede aiuto a Flora. Amore finito e nuove storie per il finale di stagione e la relazione tra Vito e Maria è finita. Matteo si trova ora nel cuore della bellissima Puglissi. È dubbio se con lui le nozze avranno luogo, ma è un'ipotesi piuttosto pericolosa. Nonostante sia innamorata, Maria ha bisogno di ritrovare stabilità. Non esclude però la possibilità che i due lascino Milano e si dirigano a Parigi. Ma è chiaro che Elvira è stanca di Tulio. Salvatore, da cui era sempre stata attratta, la proteggeva anche dal fidanzato. L'ipotesi è che Elvira e Salvo potrebbero fidanzarsi nel finale di stagione, con Tulio che ritornerà dalla madre con la coda tra le gambe.